I ricordi di Pasquale Foggia, Ascoli è stata senza dubbio direttore una tappa fondamentale nella tua carriera, stagione 2005-2006, Serie A, 36 presenze e 4 gol, quell'Ascoli allenato da Gian Paolo che poi è ritrovato a Cagliari dopo due stagioni se non vado errato, giocava anche un grande calcio, 4-2-4, molto dinamico. Un anno bellissimo perché comunque da ripescati dopo Calciopoli è stato per me ma credo per l'Ascoli uno degli anni migliori della sua storia, quindi ho ricordi positivi dal campo. Ricordi positivi anche con Marco Giampato come dicevamo nella premessa, sei ancora legato al tecnico abruzzese immaginiamo? Il mister lo ebbe anche attreviso prima che era il secondo che ammazza l'orso, un rapporto bellissimo e settimana prossima andiamo anche a cena assieme, quindi persona spettacolare. Senti Pasquale, l'attualità, l'Ascoli ha cambiato d'allenatore, acque agitate nell'ambiente, insomma aperta contestazione nei confronti della proprietà, è arrivato Di Carlo, è un'incognita in questo momento l'Ascoli secondo te? Ma non è un'incognita perché ha preso un allenatore importante, perché ha dei giocatori importanti. È solo un ragionamento, magari teorico, speriamo che sia così. C'è il timore, forse è giustificato che senza Lonardi il centrocampo possa perdere un po' di attitudini difensive. Ci sbagliamo? Perde un giocatore forte, un centimetro sicuramente perché ti dava anche sulle palle lunghe, sui piazzati, ti dava quei centimetri che sono importantissimi. Oggi iniziava a stare anche fisicamente benissimo e perdiamo, ripeto, un giocatore importante con delle caratteristiche che non abbiamo in altri. È un ragazzo eccezionale, è uno dei leader del gruppo, quindi è un'assenza pesantissima. Non è tantissima, ma confidiamo tantissimo in quelli che abbiamo, tant'è che rimarremo, ma già l'ho detto in precedenza, senza andare sul mercato così come siamo, perché abbiamo dei giocatori affidabilissimi. Tra gli svincolati non c'era in questo momento un'opportunità da cogliere? Non è l'opportunità, neanche l'ho vista, se ci fosse stata o meno. Crediamo ciecamente in quelli che abbiamo. Toccare quello che si sta creando non lo farei per nulla. Baldini ha dato una chiara impronta tattica e caratteriale, direi, a questa squadra che non molla mai. Questo è l'aspetto, secondo me, da sottolineare. Assolutamente, è la dimostrazione di tutte le partite finora giocate, anche dei gol fatti alla fine, anche del prendere gol e reagire subito. Quello è dimostrazione dell'impronta che ha dato l'allenatore ed è ben precisa. Lo dicevo in settimana ai ragazzi, al mister, parlando, noi oggi non abbiamo avuto nessuno che abbia messo la palla all'incrocio. Tutte le partite che abbiamo vinto, le abbiamo vinte di sofferenza, di gruppo, della corsa in più fatta per il compagno. E quella deve essere la nostra arma. Che partita ti aspetti, Pasquale, ad Ascoli? Tosta, partita tosta, partita nervosa, partita fatta da episodi. Dobbiamo essere bravi, intelligenti a non cadere in un ambiente che si preannuncia non bellissimo. Dobbiamo pensare a noi, fare la nostra partita che abbiamo fatto fino ad ora e metterci il 110% in campo. Poi alla fine vedremo il risultato. Chiudiamo con un ricordo dell'esperienza a Scolana. Ricordi positivi perché quell'anno ci siamo salvati con qualche giornata d'anticipo. Decimo posto? Decimo posto, europeo concluso con l'European Under 21, quindi ho solo ricordi positivi.